Dopo il decreto dignità dobbiamo andare avanti come governo nella tutela delle persone che lavorano come nel caso dei dipendenti degli esercizi commerciali sprofondati nella giungla degli orari di chiusura. Queste le parole con cui Luigi Di Maia ha voluto riaprire il dibattito sulle chiusure domenicali dei negozi, un tema sul quale si era dibattuto molto durante la nascita del governo giallo-verde ma che da alcuni mesi era finito nel dimenticatoio. In realtà il lavoro del Parlamento procede anche se a passo lento. La legge che prevede 26 aperture domenicali più 8 in deroga per le festività è ferma in commissione e potrebbe arrivare in aula nel mese di dicembre. Al momento manca però l'accordo tra 5 Stelle e PD con i DEM che vorrebbero un massimo di 12 chiusure per tutto l'anno. Un argomento che in Romagna fa discutere tutto il mondo del lavoro, sempre diviso tra la tutela dei dipendenti e le esigenze di un mercato in continua evoluzione, come testimonia anche l'apertura del nuovo stabilimento Amazon a Sant'Arcangelo. Amazon non si ferma chiaramente ma se imponiamo ai centri commerciali la chiusura alla domenica sicuramente facciamo un favore ad Amazon. Oggi le flessibilità sono un dato di fatto e quindi su questo nessuno si tira indietro. Cosa diversa è la deregolamentazione, su questo non ci siamo perché i lavoratori hanno dei diritti, hanno delle tutele che devono essere preservati. Su questo non significa fare una battaglia di retroguardia, significa fare una battaglia di dignità per il lavoro e per i lavoratori. Non sono d'accordo perché, l'ho detto anche all'inizio, il sistema ingessato del lavoro in Italia, non è concepibile che quando lei fa una selezione, una ricerca, una selezione del personale, il problema di sti ragazzi è il sabato ovviamente ho il mio tempo libero, non dico la domenica, si preoccupano del sabato e dell'orario d'uscita alle 5, 5 e mezza perché devono andare in palestra eccetera. Quindi le difficoltà degli imprenditori e delle imprese sono queste oggi.